Esordio in maglia granata negli ultimi minuti di questa partita, partiamo però dal risultato finale, giusto per te un pareggio? Per quello che si è visto oggi penso di sì, noi forse abbiamo creato qualcosina in più nel secondo tempo, però credo di sì. L'emozione di giocare alla Reghi, cosa si prova? È sempre stato uno stadio che a me è piaciuto tanto, per il tifo, per il campo, per tutto, è fantastico. Per quelle che riguarda le tue caratteristiche dici qualcosa in più di te? Sono un esterno alto, oggi sono entrato quasi da terzino, ma poi sicuramente piano piano troverò il mio spazio anche davanti. Soprattutto potresti trovarlo nella prossima gara col Trapani, quanto bisogna prepararsi bene, soprattutto non sottovalutando? Tantissimo, dobbiamo fare una settimana di impegno, di volontà per arrivare a sabato e vincere. Grazie. 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 Grazie.